Ci sono tre cose che vogliamo comunicare, la possibilità di cambiare il mondo, creare un mondo senza povertà, senza guerra, senza denaro, senza governo e tutto il nostro lavoro ha per perspettiva queste idee e queste idee sono un po' difficili di comunicare perché la nostra educazione, la nostra cultura è contro questo perché il mondo ha paura della libertà. Pensano che la libertà vuol dire una manca di responsabilità, hanno paura della spontaneità, hanno paura del spirito umano che vuole in tutte direzioni e noi vogliamo aiutare di dare ali a questi desideri universali che sono soppressi in tutto il mondo.